ciao amici oggi un video ultra veloce mi è venuto in mente questo oggetto perché cercandolo in rete non ho trovato troppi tutorial in merito non lo trovano proprio oggi costruiamo un torchio per l'uomo come sempre vi ricordo bel pollice in su alla fine del video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto SIGLA iscriviti al canale iscriviti al canale no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.